Buonasera ragazzi, come state? Tutto a posto? Ragazzi, oggi siamo in un contenuto nuovo, anzi nuovo sul mio canale perché sta spopolando ultimamente Cioè, oggi smentirò 8 lifehack di Minecraft presi direttamente da TikTok Il primo TikTok è questo qui Ragazzi, il primo TikTok dice che in teoria possiamo creare una mini zucca semplicemente usando un armor stand Dobbiamo mettere il supporto per l'armatura e dobbiamo mettere la zucca intagliata A questo punto dobbiamo mettere un blocco esattamente sopra la zucca e dobbiamo spingerlo verso il basso con un pistone Quindi, in teoria, se faccio così, abbiamo creato una mini zucca, esattamente come diceva il TikTok Quindi, primo lifehack confermato Il prossimo TikTok è questo qui Ok, il prossimo TikTok dice che in teoria creando un muro esattamente come questo E mettendoci sopra degli espositori chiamati Rack Uscirà una roba tipo appendi armi E se ci proviamo a mettere sopra una spada tipo di nederite E non succede assolutamente un postale Ragazzi, secondo TikTok sfatato Ragazzi, il terzo TikTok invece è questo qui Allora, in teoria, nella testa di questo qui possiamo letteralmente creare un blocco d'acqua con un pistone dell'acqua e un blocco di pietra rossa Quello che dobbiamo fare è piazzare il pistone, piazzarci l'acqua davanti e creare un macello indegno Adesso dobbiamo attivare il pistone e disattivarlo E non funziona Quindi ragazzi, anche il terzo TikTok è stato sfatato Ragazzi, il terzo TikTok invece è questo qui Ok, in teoria, se piazzo i pistoni esattamente così Riuscirò a prendere il volo, letteralmente Quindi li colleghiamo Adesso li metto qua E in teoria, se li attivo, dovrei schizzare nella stratosfera a incontrare Jeff Bezos E non succede assolutamente un snack Quindi ragazzi, anche il quarto life hack di Minecraft è sfatato Prossimo life hack Il prossimo TikTok dice che Riusciremo a non solo a creare una mela d'oro grazie a una fornace Ma riusciremo addirittura a creare un totem dell'immortalità Senza arrivare a una magione Adesso quello che ci servirà sarà una mela Cosa che dovremmo fare? Innanzitutto mettere dell'oro grezzo in una fornace E cuocerlo con del carbone E quando finirà di cuocersi Noi metteremo una mela qua sotto Ma non possiamo mettere una mela qua sotto Di conseguenza non possiamo creare una nostra mela d'oro in questo modo A questo punto cos'è che dobbiamo fare? Ci servirà una crafting table Ci servirà una crafting table E a questo punto dobbiamo mettere Uno, due, tre Dobbiamo mettere poi lo smeraldo e la mela d'oro E non succede assolutamente niente ragazzi Questo tiktok è più vero di me Quando la mattina mi sveglio che voglio andare a scuola Ragazzi il prossimo tiktok invece è questo qui Questo tiktok invece dice che tramite della farina d'ossa E degli arboscelli possiamo creare una particolare casa Fatta praticamente di legno e alberi Quindi una casa albero Ma quello che dobbiamo fare adesso è far crescere uno di questi alberi E la casa magicamente apparirà Ehm no Non possono nemmeno crescere questi qui piccolini Quindi ragazzi mito sfatato E quindi passiamo immediatamente al prossimo tiktok Ragazzi invece il prossimo tiktok dice che possiamo creare un elitra senza nemmeno dover andare nell'endo Quindi ragazzi rendiamoci conto Quello che dovremmo fare è semplicemente disporre in una crafting table delle membrane fantasma in questo modo Poi dobbiamo mettere qua sopra dei guinzagli Poi dobbiamo mettere esattamente sotto del cuoio e poi una corda e non si crea assolutamente un po' Anche l'ultimo mito di oggi è stato sfatato E niente ragazzi per questo video di oggi è tutto Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto Attivare la campanellina che si trova esattamente a fianco al tasto iscriviti Mettere like a questo video Condividerlo con tutti i vostri amici anche col barista al bar Lasciate un commento Buono o cattivo che sia Basta che non siate offensivi E niente ragazzuoli noi ci vediamo nel prossimo video Bye bye